Toscana Arcobaleno d'estate 2018, la festa sta per cominciare. Dal 21 al 24 giugno torna in Toscana la manifestazione che tra concerti, mostre e degustazioni tiene a battesimo la stagione più calda e luminosa dell'anno in tutto il territorio regionale. L'evento è organizzato da Regione Toscana con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, ANCI, Ente Bilaterale Turismo Toscano con il gruppo editoriale QN La Nazione come media partner. 4 gli eventi clou, l'inaugurazione il 21 giugno al Giardino delle Rose di Firenze, il 22 la cena sul Ponte di Mezzo a Pisa, il 23 il concerto di Loredana Bertè a Livorno e il 24 l'aperitivo all'Anfiteatro Romano di Arezzo. Queste iniziative, la maggiore spessore, si vengono affiancate da un'altra serie di iniziative diffuse per tutto il resto della Toscana, da Lucca, Siena, Prato, altre città che in questo stesso momento cercano di mettere in mostra le loro eccellenze con una varietà di temi che saranno di stimolo e di sollecitazione ai nostri ospiti. Tema dell'edizione 2018 di Toscana Arcobaleno d'Estate è la prima cosa bella, ovvero la ricerca di tutte le prime cose belle della Toscana, dal fascino della natura al buon cibo. La prima cosa bella quest'anno sarà legata in modo particolare al cibo, il cibo e il vino sono, ricordiamolo, l'elemento, il top, l'elemento più riconosciuto, più positivo che come sottofondo, in inglese il bus di sottofondo in una vacanza estiva in Toscana è sempre un bicchiere di vino con lo sfondo del paesaggio toscano in una foto postata su Instagram per essere diciamo iconografico. E proprio alla prima cosa bella sarà dedicato anche il blog tour che racconterà tappa per tappa l'estate toscana sui social per catturare in tutte le sue sfumature i colori dell'arcobaleno d'estate in Toscana.